Allora, procediamo al nostro fittissimo programma, nonostante le temperature esotiche, anzi grazie subito a tutti per essere venuti e aver sconfitto il caldo. Solo due parole, io sono Matteo Scotto di Villa Vigoni, che siamo noi come istituzione bilaterale che opera tra i governi di Italia e Germania, facciamo parte insieme anche alla fondazione Gasperi Trentino e al Comitato Scientifico. Solo due parole sul perché abbiamo deciso anche con il direttore Marco qua presente di mettere il tema della migrazione al centro anche un po' del festival. Mi sembra che sia un po' chiaro a tutti aprendo le pagine dei giornali perché sul tema della migrazione ci giochiamo il futuro, ce lo stiamo già giocando, il futuro politico della maggior parte dei paesi europei, futuro politico che riguarda sia gli stati membri sia quello che succederà in Europa da qui ai prossimi anni e specialmente nell'anno prossimo in occasione delle elezioni politiche europee del 2019. Perché partiamo ad affrontare questo tema così? Con una prospettiva rivoluzionaria che è quella della professoressa Donatella di Cesare, che ringrazio molto per essere venuta perché riteniamo che per quanto uno possa condividere o non condividere alcune opinioni è importante ed è molto necessario ribaltare completamente le prospettive e iniziare a ripensare questo tema da zero per trovare soluzioni credibili e sostenibili su lungo termine. Quindi ringrazio ancora la professoressa Di Cesare a nome di tutta l'organizzazione per essere qui, ringrazio anche molto il direttore Faustini dell'Alto Adige e Trentino, se dico bene, e auguro a tutti un buon dibattito che proseguirà poi dopo e anche poi domani in cui ritroveremo la professoressa c'è sempre un panel che si è dedicato al tema della migrazione, quindi anche domani tenete d'occhio il programma. Grazie. Grazie a voi. Vengo preso in giro per la questione del direttore dell'Alto Adige e del Trentino, ma è perché quando dicono direttore del Trentino e Alto Adige mi scambiano per il segretario generale della regione, solo per quello mi piace che dicano prima Alto Adige e poi Trentino, se no si crea un grande equivoco. Allora, poi vedremo se è rivoluzionaria la prospettiva, perché a me sembra invece finalmente una prospettiva, nel senso che con gli occhi di Donatella di Cesare, cioè con gli occhi di una persona che insegna filosofia e da una parte ermeneutica, dall'altra filosofia teoretica, cioè filosofia teoretica a Roma, invece ermeneutica e filosofica alla normale di Pisa, abbiamo finalmente a che fare con chi ha uno sguardo diverso. Mi sento di dire questo sì rivoluzionario rovesciato. Per esempio ci sono delle immagini in questo libro che a me piacciono particolarmente. Penso al mare, che secondo lei congiunge, mentre spesso il mare si considera quello che divide, che divide le terre. Fin dall'inizio, già nella prefazione, lei infatti dice che vuole affrontare questo tema dalla terra e dal mare, cioè non guardarlo con il senso di diversità, il senso del noi e loro, noi e loro che tra l'altro torna anche nel libro. Per cui c'è un approccio che è totalmente nuovo, che tra l'altro passa da Atene a Roma, a Gerusalemme, c'è anche la scelta di guardare da più di punti di vista lo stesso tema. Laddove ti interroghi alla fine anche sul concetto di abitare, sul concetto di migrare, è molto bello perché lei dice paradilogica immunitaria dell'emigrazione, in questo paradius migrandi, che è un tema per esempio che ancora non c'è, perché voi sapete che c'è più di un diritto del quale si sta parlando e sul quale fra l'altro è finita anche abbastanza male la legislatura, se ci pensate, perché è uno dei temi sui quali poi alla fine la politica si è incagliata, per usare un po' la metafora del mare. C'è il concetto che a me piace molto di immigrazione come idea di libertà, dove finisce una, dove inizia l'altra, è cambiato persino il nostro modo di viaggiare. Mi sono accorto che ci sono discreti e tanti paradossi e ci sono parole che tornano in questi giorni molto, tipo il sovranismo, che non è più il sovranismo solo dello Stato, ma il sovranismo dei partiti, il sovranismo degli individui, potremmo insomma fermarci svariate ore. Per esempio c'è il concetto, dopo ci arrivo Donatella, del diritto all'esclusione, persino anche guardando quello che accade in America, dove c'è la libertà della Costituzione, che cozza contro... cioè da una parte hai le regole, dall'altra hai la libertà. E stiamo cambiando tutti noi, fin dai tempi in cui Kant iniziava, tu ci ricordi, a parlare di globalizzazione. La prima domanda però è proprio sul titolo, perché tu dici in realtà che siamo tutti stranieri residenti. Allora spiegaci perché siamo tutti stranieri residenti, così riesci a rovesciare forse alcuni nostri preconcetti. Ma sì, diciamo che questo libro è nato proprio un po' anche dal titolo, nel senso che poi il sottotitolo è Filosofia della migrazione e devo confessare che è un libro filosofico politico, però... Ed è il primo, no? Tu stessi dici che non c'è un libro di filosofia della migrazione. Però devo confessare anche che è un libro che è nato nell'attualità, cioè è nato nel contesto dei dibattiti, no? Come tu hai ricordato, anche proprio dei dibattiti politici, perché io avevo questi materiali che ho messo da parte nel corso anche, devo confessare, di parecchio tempo, insomma, al lavoro di anni. E poi a un certo punto l'anno scorso sono state invitate in diversi dibattiti televisivi e ricordo in particolare un dibattito in cui a un certo punto l'esponente di un partito diceva, commentava alcuni fatti che erano avvenuti sia alla periferia di Roma, a Torsapienza, dove alcuni cittadini avevano respinto, non so se vi ricordate, un pullman, un autobus di immigrati, sia in un paesino nell'Emilia Romagna, a questo momento non ricordo il nome, e diceva che i cittadini hanno il diritto di decidere con chi coabitare. E dall'altra parte non c'è stata, diciamo, dalle esponenti di altri partiti che erano in studio, non c'è stata nessuna risposta. Io naturalmente partecipavo a questo dibattito a titolo personale, diciamo, come filosofa, e ho detto ma in fondo la filosofia invece potrebbe servire e potrebbe servire a riflettere su questo argomento. Cioè la domanda è, hanno veramente i cittadini il diritto di decidere con chi coabitare? Allora, stranieri residenti racchiude un po' la tesi del mio libro, perché se ci pensiamo stranieri residenti è quasi un ossimoro. Chi è straniero non è residente e chi è residente non è straniero. E allora per me si è trattato di trovare in questa figura, che poi è un'antica figura che mi viene suggerita dalla Torah, dalla Bibbia, la parola ebraica è Ger. È un bellissimo versetto del Levitico dove si dice la terra è mia, è inappropriabile, non si può vendere, e non si può alienare. E voi siete stranieri residenti presso di me, siete Gerim, Beto, Shavin. Allora, che vuol dire? Perché stranieri residenti? Quindi per rispondere alla tua domanda, perché secondo me quello che noi viviamo oggi è una dicotomia, una separazione molto forte tra cittadini e migranti e su questo magari poi sarà importante anche ritornare. Per cui da una parte c'è la necessità di difendere i diritti dei cittadini e dall'altra ci sono però i diritti umani. Quindi i diritti dei cittadini urtano contro i diritti umani. Allora lo straniero residente per me è la figura in cui viene superata da una parte quella del migrante, perché io dico che il migrante non è più neanche lo straniero, non ha più nemmeno l'aura dello straniero che viene d'altrove, è la nuda spoglia, cioè quello che è fuori luogo, che non avrebbe dovuto muoversi, che è la colpa originaria di essersi mosso, mettendo, diciamo, pregiudicando l'ordine del mondo e dall'altra i cittadini che siamo noi. E io credo che, come hai detto tu prima, penso che soprattutto in Italia questo sia veramente il tema oggi della politica, quello che anche ha, come dire, in qualche modo determinato l'esito delle ultime elezioni ma anche l'andamento attuale, perché in fondo noi assumiamo la prospettiva del cittadino o della cittadina. Siamo cittadini di uno Stato-nazione, in fondo accettiamo anche una sorta di complicità con lo Stato-nazione e vediamo quello che avviene fuori a partire dalla nostra prospettiva, soprattutto a partire dai nostri diritti ma anche privilegi. Per cui, prof, abbiamo un problema di semantica perché tu giochi anche con le parole in questo libro e ci fai capire che c'è un piccolo sovranista in molti di noi perché appunto siamo stati proventi indotti a pensarla così. Io ti ho fatto prima quell'esempio dell'America perché è molto interessante questo conflitto fra quelle che dovrebbero essere due libertà, la libertà di spostarsi e la libertà di vivere nel proprio paese. Esatto, io penso che la modernità è naturalmente lacerata da questi due diritti, diritti dei cittadini e diritti umani e come hai detto tu è giustissimo, in fondo la mia denuncia in questo libro è che c'è un piccolo sovranista in ognuno di noi, anche inconsapevolmente, quindi noi ci riteniamo in qualche modo in diritto di decidere se accogliere o non accogliere, chi accogliere, sulla base di quali criteri. Riteniamo che questo sia legittimo, che questo sia un diritto che nessuno ci può negare, nessuno ci può contestare e questa però invece è proprio la prospettiva del sovranismo e io credo che questo, devo dire soprattutto in Italia, ma non solo, è una prospettiva ormai che si è diffusa ed è proprio l'idea che sia nostro diritto, ripeto, decidere quasi come se lo Stato fosse una sorta, un club, cioè io decido se ammetterti o non ammetterti, se ho bisogno, se non ho bisogno, se rispondi a determinati criteri oppure no, una volta che vieni qui naturalmente ti devi integrare, ti devi assimilare, devi diventare più possibile simile a me o a noi in modo da non pregiudicare la nostra identità nazionale. Tutto l'altro nel libro parti da Ellis Island che è un luogo fortemente simbolico e anche quel luogo era un luogo magnificamente di apertura perché ti apriva le porte di una nuova vita ma anche drammaticamente di chiusura, tu ci ricordi esattamente questo perché lì si poteva ricevere un biglietto di ritorno, non solo un biglietto d'andata. Sì, io parto da Ellis Island perché è questo il monito, ricordati che sei stato straniero e quindi comportati verso lo straniero ricordandoti che sei stato straniero, anzi che sei straniero. Perché Ellis Island? Perché gran parte della migrazione italiana è arrivata a Ellis Island, io ripercorro quasi il viaggio di mio nonno a cui è dedicato il libro che per motivi politici nel 1925 parte da Marsiglia, arriva appunto a New York ed Ellis Island, io addirittura dico che i criteri, la modalità attraverso la quale funzionava Ellis Island diventa addirittura un modello per il terzo Reich. Però nonostante questo è una porta aperta Ellis Island perché gli Stati Uniti sono naturalmente un paese di immigrati, quindi non sono uno stato-nazione come oggi l'Italia. E io paragono anche Ellis Island al faro di Lampedusa, cioè dico che la statua della libertà accoglieva... Ricordandoci anche che arriva alla Francia, cioè racconti anche che è emigrante pure quella, no? Anche la statua è emigrante, ma accoglieva, mentre Lampedusa, il faro di Lampedusa, ricostruisco anche lì il viaggio di chi arriva, non è sicuramente come dire un simbolo di accoglienza. Sui concetti di cui parlavo anche prima, c'è questo concetto di immigrazione e idea di libertà, però tu dici che il migrante è un'anomalia intollerabile oggi, cioè all'improvviso è diventato un'anomalia intollerabile. Sì, penso che questo sia proprio un punto decisivo non solo del mio discorso, ma anche proprio dell'argomento. Perché? Perché io penso che non si capisce che cosa avviene, non si capisce il fenomeno della migrazione, se non lo si vede all'interno di quello che io chiamo uno scontro epocale tra lo Stato, lo Stato-nazione e i migranti. Noi viviamo in un mondo diviso, spartito in Stati-nazione e il migrante che si muove, come dicevo prima, ha già una colpa originaria proprio per essersi mosso e proprio perché per noi ormai lo Stato-nazione è diventato un fenomeno naturale, cioè non lo prendiamo per come dovremmo, cioè per un fenomeno storico, perché lo Stato-nazione esiste soltanto da alcuni secoli. Quindi la migrazione all'interno di un mondo così diviso tra Stati-nazione che si fronteggiano, ma anche si fiancheggiano, viene vista come un'anomalia, come una devianza. Ecco anche perché io dico che il migrante smaschera lo Stato-nazione, cioè per me riflettere sul fenomeno della migrazione, riflettere sulla figura del migrante, significa anche però mettere, questo forse, sta qui forse la radicalità del mio libro, mettere in discussione lo Stato-nazione. Quindi io con grande sincerità riconosco che io sono profondamente antisovranista, profondamente antisovranista e aggiungo che secondo me il tema del sovranismo è il tema che ha diviso e divide oggi e lo abbiamo visto, quella che io chiamo la sinistra in senso culturale, quindi non soltanto in termini politici e qui c'è proprio una divisione molto netta tra coloro che pensano che lo Stato-nazione abbia una sua ragione d'essere ancora, sia una forma politica collaudata e che quindi, come dire, la questione della giustizia sociale si debba e si possa porre soltanto all'interno dei confini nazionali, non al di fuori. Ecco, questo è un punto cruciale. Che secondo me, leggendoti, ti ha fatto anche cambiare idea da sola, nel senso che è analizzando queste cose che hai scoperto di essere così antisovranista. Scusami se ti provoco, però la sensazione è che applicandoti a questo tema tu ti sei resa conto anche forse del fatto che esistono proprio due Italie, ma immagino anche due Europa e due mondi, nel senso che il tema ormai è generale, cioè questo tema dello Stato-nazione non è più di un paese, di tanti paesi, però all'interno di ogni paese c'è un pezzo di società che è la società dell'accoglienza, che è la società della solidarietà, una società che magari fa meno rumore dell'altra, ma che è importante. Infatti tu giustamente hai detto il tema di sinistra, sinistra politica, c'è una sinistra politica e una sinistra sociale forse, sono cambiati anche i paradigmi così? Sì, sicuramente, io diciamo sono diverse domande, sono molte domande anche importanti, io vorrei dire questo anche perché qui questo festival si chiama Siamo Europa, senza punto di domanda, Siamo Europa, la convinzione. E vorrei raccontare se posso molto rapidamente un aneddoto che però per me è molto sintomatico. Io ero a Barcellona quando è stata dichiarata l'indipendenza. E hai un alibi? Ma per caso. E hai un alibi? No, no, però insomma, ed ero lì perché era uscito il mio libro, quello Terrore e Modernità, pubblicato in spagnolo, dove però già mi pongo la questione della sovranità, cioè il problema che noi viviamo in un'epoca in cui lo Stato-Nazione è in crisi, ma la sovranità è una sovranità indebolita ma anche incattivita, per cui lo Stato-Nazione per esempio innalza muri, va bene? Allora io mi trovo a Barcellona e mi ricordo che appunto dovevo fare, tenere una conferenza, a un certo punto è arrivata la dichiarazione, ve lo ricorderete anche voi, la dichiarazione di Juncker che diceva i cittadini catalani che non sono più cittadini spagnoli non sono più nemmeno cittadini europei, cioè perdono la cittadinanza europea. E questo mi ha colpito tantissimo, mi ha colpito negativamente, comunque diciamo la si pensi sulla questione catalana, mi ha colpito molto negativamente, perché? Perché io penso che la profonda delusione che tutti noi abbiamo nei confronti dell'Europa, o almeno che io ho nei confronti dell'Europa, non sta tanto nella questione della Costituzione, su cui hanno insistito molti filosofi, per esempio Agne Celler, Habermas, quanto invece secondo me proprio nel fatto che l'Europa non è diventata una forma politica post-nazionale e quindi da una parte è diventato un cuocervo di stati-nazione che litigano tra loro, eccetera, eccetera, e dall'altra alle frontiere è uno stato-nazione sovranista, insomma. Allora qui dire per esempio che i cittadini catalani perdono la cittadinanza europea è gravissimo, perché? Perché l'Europa è nata sulle ceneri di Auschwitz e noi non dobbiamo mai dimenticare a proposito per esempio quello che diceva Anna Arendt sulle leggi di Nuremberg a 1935. Tu citi più volte e Anna Arendt torna più volte. 1935 gli ebrei tedeschi non sono più tedeschi, perdono la cittadinanza tedesca e non hanno più un posto in Europa. Quindi l'Europa che ha questa storia non può permettersi più questo, cioè non può permettersi di avere una cittadinanza che è semplicemente un doppione della cittadinanza nazionale. Questo è gravissimo. Lei lo denuncia, no? E io penso che questo sia molto grave. Allora la delusione sta nel fatto che l'Europa non è diventata una forma politica post-nazionale. Quindi l'attrito tra i migranti, perché io parlo poi a un certo punto nel libro di naufragio dell'Europa, cioè ricostruisco la grande crisi del 2015. Io penso che quella sia stata veramente assegnato un prima e un poi, anche per via della narrazione, per come è stata narrata questa crisi ed è stata narrata in termini nazionalistici, in termini sovranistici, cioè come fermare i migranti, come fermare i flussi migratori. Ed è un tema che torna... Ecco, rispetto a domanda di prima che era composita, ti chiederei la parte positiva, perché anche girando questo paese con le tue conferenze ti accorgi che c'è anche un'Italia aperta, solidale, che apre porte e finestre rispetto a questi temi. Sì, io penso l'esperienza di questi ultimi mesi in cui ho girato molto l'Italia proprio attraverso gli stranieri residenti. È un'esperienza, come dire, veramente c'è uno spaccato di questo paese che è un paese molto solidale, che è un paese ospitale, che è un paese aperto. Però è vero che questo è un tema su cui è diventato difficile quello che stiamo facendo noi oggi, un incontro, è diventato molto difficile. È diventato... è un... direi che addirittura è un argomento che è diventato quasi tabù. E del resto tu citi l'Arendt che dici che pensare è fuori dall'ordine, no? Esatto. Per questo io ho ritenuto che fosse importante anche un contributo, diciamo, della filosofia su questo. Anche per mettere in discussione alcuni luoghi comuni, alcuni stereotipi. E dici anche che chi riflette sta sulla riva, che diventa un po' anche una metafora di molte cose. Poi tu spieghi la differenza che c'è fra la riva e l'interno e appunto il concetto del mare. Sì, perché, come è facile immaginare, per me una volta, diciamo, proprio pensato che il cittadino è quasi spontaneamente sovranista, io ho fatto lo sforzo di cercare la prospettiva esterna nei limiti del possibile. Mi ha colpito una frase, pare di estraneità orizzontale. Si spieghi? Sì, io, per me, come dicevi proprio all'inizio, è importante, io ho riflettuto che cosa vuol dire migrare, ma anche prima ancora che cosa vuol dire abitare. E noi siamo portati a pensare che abitare abbia a che fare con l'avere e non con l'essere. Cioè che abitare significa essere proprietari. E qui io credo che ci sia un punto, veramente alcuni partiti in Italia hanno fatto di questo il loro cavallo di battaglia, e cioè il cittadino è proprietario. Questo posto, questo luogo in cui io metto i piedi è mio, perché questa terra è mia, questo luogo è mio, fa parte della mia identità, io mi identifico e quindi io sono, diciamo, legittimato a discriminare, legittimato a respingere, legittimato a escludere. Io credo che invece noi dovremmo ripensare proprio l'abitare nel segno di questa estraneità orizzontale. Cioè che cosa vuol dire? Che è possibile un abitare nel segno della separazione dal luogo. Nessuno di noi è proprietario. Essere cittadini, e questo è un punto anche politicamente importantissimo, essere cittadini non vuol dire essere proprietari. Qui c'è uno stereotipo, cioè essere cittadini non significa avere una parte del territorio nazionale, non si è scritto da nessuna parte, ma soprattutto ritenere che questo luogo sia mio e non tuo è la negazione dell'etica prima ancora che della politica. Io credo al contrario che la sfida, lo dico anche proprio anche nell'ultima parte del libro, sia proprio il coabitare. Coabitare direi che è proprio la parola chiave, coabitare io credo che sia la sfida del terzo millennio, cioè non è lecito decidere con chi coabitare, coabitare è un compito, proprio nel segno del riconoscimento anche della propria estranetà, del proprio esilio, perché ormai viviamo tutti un esilio. Tu definisci persino il passaporto un documento paradossale, poi stai verso il fine del libro. Ma sicuramente sì, è un documento paradossale, d'altra parte lo vediamo perché è un documento che nasce relativamente tardi e nasce nel momento in cui c'è la necessità appunto di delineare, di rinsaldare, rafforzare le frontiere e quando proprio è necessario affermare lo Stato un'azione. Ed è paradossale se pensiamo a quali privilegi ha un passaporto, quali invece handicap ha un altro. Tu apri il libro dicendo non cercate soluzioni, come dire io in questo libro parlo di molte cose ma non della soluzione, però evochi lo Ius Migrandi, cioè facendo diventare anche una possibile soluzione. Sì, io dico che lo Ius Migrandi a mio avviso è il diritto del terzo millennio per il quale sarà necessaria come dire una grande mobilitazione di tutti, così come c'è stato nel passato una mobilitazione contro per esempio la schiavitù. Io non do soluzioni perché di solito noi viviamo, credo un periodo, lo abbiamo visto anche in questi ultimi mesi in Italia, dove la prima cosa che ti viene chiesto è quali sono le soluzioni, che cosa proponi, no? Che soluzioni proponi? Allora io inizio il libro dicendo chi vuole soluzioni non legga questo libro, ma il problema è che se le questioni sono malposte, no? Allora le soluzioni sono sempre le stesse, cioè se io dico che io ho il diritto di decidere con chi coabitare, allora sarà ovvio che la soluzione sarà necessariamente come respingere chi mandare indietro, eccetera, eccetera. Per me si è trattato di mettere in discussione alcuni, come dicevo prima, stereotipi, e anche alcuni naturalmente luoghi comuni, alcuni pregiudizi. Vorrei anche aggiungere, ma questo richiederebbe naturalmente un altro discorso, e sicuramente voi l'avrete affrontato, lo affronterete, c'è la tendenza a vedere nella politica semplicemente una amministrazione, una governance, cioè la politica è amministrare, la politica è trovare soluzioni pragmatiche. Per me la politica non è questo, questo è un concetto assolutamente riduttivo, misero della politica, la politica invece è pensare, la politica è pensare e secondo me pensare anche al di là delle frontiere, al di là dello Stato-Nazione. Visto che pari politica, io non so se Conte salirà mai al Quirinale con una lista di ministri, però una cosa che mi colpisce è che il tema dell'immigrazione è sempre affidato al ministro degli interni, per cui al ministro della sicurezza. Non ti sembra un paradosso che non ci sia un ministero davvero, dico davvero dedicato perché con la Chiang ci fu un mezzo esempio, ma insomma non fu reale. Non ti sembra che siano due ministeri molto diversi fra loro, quello dell'immigrazione e quello dell'interno? Beh, io ho partecipato la scorsa settimana in diretta a una trasmissione televisiva dove ci hanno dato questo bozza di contratto, e dove esponenti di partiti di sinistra accettavano il discorso della sicurezza. E io sono intervenuta dicendo due cose. Anzitutto che la questione della migrazione non può essere derubricata a questione di sicurezza. Questo è il primo punto come avviene continuamente in Italia. E poi ho commentato questo accordo che è stato fatto dicendo, dato che per me sinistra e destra sono invece punti di orientamento ben precisi, che è un accordo, che è un contratto, anzi una brutta parola contratto, che è un contratto politicamente di destra, dove ci sono pagine inquietanti per esempio sulla chiusura dei campi Rom, e dove per quanto riguarda la migrazione, a parte lo spaccio delle illusioni per cui si dice che verranno mandati via 500.000 clandestini eccetera eccetera, ma invece quello che si segue è una politica che è quella per esempio della moltiplicazione dei CIE, dei centri di identificazione e di espulsione, in ogni regione eccetera eccetera. E a questo proposito, e questo io lo denuncio anche nel mio libro, io penso che noi veramente viviamo ancora all'ombra di Auschwitz, perché noi pensiamo che sia normale internare degli stranieri, cioè pensiamo che sia normale la detenzione amministrativa, cioè tenere in un posto chiuso delle persone semplicemente che non hanno commesso il curriato, ma semplicemente perché sono stranieri, questo esiste soltanto appunto dai primi del Novecento, ha portato all'universo concentrazionario, perché naturalmente c'è una continuità, e per noi dopo Auschwitz noi accettiamo che ci siano appunto dei campi per gli stranieri. Tu nel tuo libro citi parole che si evocano di più a Bolzano rispetto a Trento, però citi Walzer che parla del concetto di autodeterminazione e poi parli di autoctonia, è quello che stiamo rischiando, come dire, di trovare sulla nostra strada? Sì, io diciamo che prendo le distanze da filosofi come appunto Michael Walzer, ma anche molti altri, perché è bene dirlo, ci sono molti filosofi che pensano... Mi piace Walser, io l'ho chiamato la tedesca, non lo penso. Sì, che sia giusto o mantenere i confini chiusi, o comunque difendere i diritti dei cittadini. Io credo che la mia tesi è che non solo servano confini aperti, ma che serva invece soprattutto una politica dell'accoglienza, che è quella che infatti però non c'è. E a proposito dell'autoctonia, io credo che sia appunto questo grande mito che nasce in Grecia, che nasce ad Atene, un mito che racconta Platone, dell'idea che io sono nato dalla terra, non è importante neanche la figura femminile, cioè io sono cittadino atenese perché sono nato da questa terra e quindi ho diritto di abitare qui e tu che vieni da fuori non puoi stare qui. Io credo che gli spettri del sangue e lo spettro anche del suolo ci inseguano. Pensiamo a che cosa è stato della legge sulla cittadinanza che è fallita miseramente. Sono spettri e penso che questo mito dell'autoctonia abbia avuto un enorme successo e continua anche oggi ad essere un mito molto potente. Ti provoco con un piccolo episodio, un aneddoto che racconti nel libro, cioè del professore che sta correndo a lezione tutto elegante e vede un bambino che sta annegando. È una cosa che capita a tutti noi in fondo, no? Cioè quella di dire da che parte vado, cosa faccio, salvo i miei vestiti e corro a fare una lezione perché comunque devo fare le lezioni o salvo il bambino perché mi costa molto poco salvarlo. Sei tu anche una professoressa che continua a correre la lezione. Da una parte ti chiedo quanti bambini vedi nel laghetto e dall'altra come fai a fermarti. Appunto, io ho raccontato questo aneddoto un po' anche per denunciare, questo lo devo dire, una certa filosofia che è molto lontana da me, un'etica analitica applicata che pretende di essere concreta ma non lo è e che appunto pone di fronte a questi dilemmi, ma naturalmente questi sono, come dire, falsi dilemmi, no? Perché è chiaro che senso ha dire cosa faccio di fronte, ecco. E quanti bambini? Beh sì, sono tanti. E la grammatica dell'odio, secondo te, riusciamo a sopprimerla o è una grammatica che avrà la meglio? È una grammatica che va molto di moda anche nei nostri dibattiti? La grammatica dell'odio va molto di moda perché ci sono stati in Italia i fomentatori dell'odio e lo sappiamo bene. La grammatica dell'odio è naturalmente la grammatica del noi. e quindi noi e loro, quindi prima veniamo noi e poi vengono loro. Io credo che la grammatica del noi si è purtroppo affermata e che adesso si è affermata a tal punto, in modo così inquietante, che abbiamo adesso il problema di come arginarla o come trovare una nuova narrazione per in qualche modo scardinarla. Tu parli infine del ritorno dell'età dei muri, cosa che peraltro è abbastanza visibile, cosa che sta accadendo attorno a noi. Anche da noi si fanno i muri? Beh, il ritorno dei muri che nessuno di noi credo si aspettasse, perché quando è caduto il muro di Berlino tutti quanti abbiamo pensato che, come dire, era in qualche modo un muro simbolico, quindi cadeva questo simbolo e quindi veniva meno la cortina di ferro, eccetera. Nessuno avrebbe mai immaginato che di lì a poco ci sarebbero stati invece nuovi muri, tanti muri. Io credo che nel 2015, io racconto questa crisi del 2015, cosa è avvenuto? Che nella penisola balcanica sono stati costruiti muri e muri, fili spinati, eccetera. Un po' l'idea è che l'Italia non avrebbe mai fatto nulla di ciò, però il problema è che l'Italia ha tante coste. Io penso che l'Italia abbia fatto del mare una sorta di muro o anzi abbia fatto del mare veramente un cimitero marino. È vero che viviamo nell'epoca in cui la responsabilità è frantumata, ma io penso che dovremmo riconoscere le nostre responsabilità da questo punto di vista. Dici che l'Europa nega Lampedusa, però dici anche mare liberum, come alternativo a mare nostrum. Per cui dobbiamo ritrovare un mare senza muri? Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Tornando alla narrazione, è l'ultima domanda perché poi voglio coinvolgere il pubblico. Cosa può fare un docente oggi, universitario nel tuo caso, ed è la scuola il luogo nel quale possiamo cambiare la cultura imperante del paese o questa cultura che ci sta travolgendo? Beh, sicuramente la scuola, certamente, però non solo, non solo la scuola e l'università, ma anche lo spazio pubblico. Lo spazio pubblico e con spazio pubblico naturalmente intendo anche il web e molto però anche l'informazione. Io credo che lo spazio pubblico, intendendo lo spazio pubblico proprio nel senso più ampio, sia il luogo in cui, ecco perché queste iniziative sono importanti, in cui partire con una nuova narrazione. Avresti mai pensato che fare la filosofa potesse essere così rivoluzionario da farti rischiare la vita? No, sinceramente no. Ma ne vale la pena? Ma ne vale la pena. Grazie, grazie. Grazie a voi. Allora apro uno spazio per le domande, mi pare che le sollecitazioni siano molte, io semmai ne ho altre 47, 48, per cui non c'è problema, mi posso tenere qui fino a notte. Ah no, si è alzata a prendere il microfono, quindi in prima fila c'è una domanda che si fa anche ginnastica al caldo, che è una cosa fantastica. Prego. Salve, buongiorno, grazie per... non posso chiamarla a lezione, però per il dibattito che ci avete offerto. Volevo tornare sulla questione legata al sovranismo e la sinistra. Da quello che mi è sembrato di capire, è proprio sul sovranismo che in realtà si dovrebbe ripensare una sinistra del futuro, cioè nel senso in opposizione naturalmente ai movimenti sovranisti. Però mi chiedo questo, comporta questa una divisione della sinistra, nel senso che esiste anche una sinistra radicale che per certi versi, soprattutto su alcuni temi legati appunto alla sociale, tende più a essere vicina alle posizioni appunto sovraniste e nazionaliste. Che sempre la notizia è la sinistra che si divide, no? È una cosa nuova, ma... Non è... È la prima volta che... Esatto, che hai sentito parlare. Mai sentito. Però lei usa aggettivi che per me sono problematici, nel senso che per me la sinistra radicale è quella antisovranista. Io non conosco una sinistra radicale sovranista. Anzi, secondo me, la sinistra sovranista, e qui credo che ci sia veramente... Ma proprio in questi giorni, eh? Questa è proprio una... La dichiarazione di Orfini qui parlavamo prima. Uno scontro molto poco. Forse in questo senso una radicalizzazione del sovranismo, chiamiamola dire. Nel senso che, secondo me, io questo lo dico anche nel libro, ma le dico anche che quando ho fatto la prima intervista che ho fatto, mi pare, a Fahrenheit, radiofonica, è scoppiato, come si dice a Roma, un casino su questo tema, no? Nel senso che quando lei dice sinistra radicale, ma per me la sinistra radicale è antisovranista. Nel senso che la sinistra che pensa che il welfare sia possibile solo all'interno dei confini nazionali, con il discorso che, dato che il capitale circola, no? Allora noi ricorriamo allo Stato-Nazione come forma politica che in qualche modo argina questo e soprattutto pensiamo ai nostri poveri all'interno, diciamo, dello Stato-Nazione, io credo che qui ci sia un grande tradimento della sinistra che invece è sempre stata internazionale. Allora il problema è che se la sinistra dimentica questo, che fa parte della sua storia, perché l'internazionale fa parte della sua storia, fa parte, secondo me, della sua vocazione, secondo me è una sinistra che o, diciamo, ha delle contiguità molto, per me, inquietanti con, diciamo, con forme nazionalistiche e sovraniste, eccetera, o anche è una sinistra social-democratica che pensa, come per esempio l'Espédé in Germania, l'Espédé in Germania lavora su questo, l'Espédé in Germania affronta la questione della migrazione all'interno dei confini nazionali e quindi affronta questo tema all'interno dei confini nazionali. Io sono stata invitata a una commissione a Berlino e dice, guarda, vieni per lavorare sui criteri, cioè come distinguiamo i profughi politici dai migranti economici. Io ho detto, mi dispiace, non posso venire perché per me questa distinzione è una distinzione già sbagliata, è fittizia, va bene? E anche perché non si vede, è una eredità della guerra fredda e non si vede perché i motivi politici debbano essere più importanti di quelli economici, ma soprattutto le cause sono sempre molto più complesse. Quindi a me pare che proprio questo tema oggi divida diverse sinistre e a mio parere c'è da una parte una sinistra socialdemocratica che io rispetto, che è la sinistra diciamo di Habermas che pensa a una democratizzazione per esempio della frontiera però pensa all'interno dello Stato nazionale e pensa questo tema all'interno o c'è una sinistra fortemente sovranista, fortemente con accenti nazionalistici che devo dire che mi inquieta molto o invece c'è una sinistra che invece finalmente guarda al di là dello Stato nazionale si interroga sui diritti umani combatte contro chi criminalizza appunto le ONG e tutti coloro che tutte le organizzazioni non governative che difendono i diritti umani ecco questo per me è veramente un punto di rimente. Grazie poi c'è un problema di consenso ovviamente lì dietro era un no ordinava come alle mostre sai che alle mostre se uno ordina un quadro chiarissimo bisogna stare attentissimi in questo caso in tutto questo scusami Donatella la chiesa dove sta? Ecco io penso che la chiesa io nel libro dico che la questione dell'altro e dell'accoglienza dell'altro è giusto che sia una questione come dire di caritas religiosa e noi questo in Italia l'abbiamo visto grazie alla chiesa che si è mobilitata perché la chiesa si è mobilitata penso che l'accoglienza sia e debba essere un gesto etico credo che però sia una schizofrenia quello che abbiamo vissuto in Italia per cui da una parte c'è la chiesa mobilitata quindi che spinge verso la caritas religiosa e dall'altra parte una politica che dice ma questo non si può fare perché per motivi pragmatici eccetera quindi ecco perché secondo me ci deve essere una politica dell'accoglienza non basta soltanto il gesto religioso non basta soltanto il gesto etico ha detto che il politico Papa Francesco fin dal primo giorno ha detto non abbiamo il problema del consenso c'è meglio essere di meno mentre la politica di oggi ed ecco le ultime dichiarazioni che fanno dire radicalizzazione di una o dell'altra posizione fanno pensare no dobbiamo intercettare no quella pezzo di cittadini anche se anche la parola cittadini adesso è stata usata in modo improprio certo pezzo di cittadini che vive se non altro una situazione di sicurezza per dirti quest'anno il festival si svolge in un luogo che è simbolico fortemente in questa città perché è il luogo che spesso di sera si trasforma e diventa potenzialmente insicuro per cui è un messaggio anche molto importante allora come si parla a quei cittadini certo ma io penso volevo dire a proposito della chiesa che la chiesa è all'avanguardia e lo ha dimostrato e anche nei dibattiti che ho avuto anche in questi mesi ho visto questo ho visto anche rispetto appunto al mio libro assolutamente ecco diverso allora io ringrazio tutti voi perché il tempo vedo è scaduto e vedo anche gli interlocutori a tavola rotonda successiva là dietro vi lascio solo con una frase di Ralph Darendorf che diceva che il mondo non è semplice ne dovrebbe esserlo è intenso perché è complesso impariamo a convivere con questo grazie a Donatella di Cesare grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti